L'hanno chiamata operazione Alto Impatto e così è stato, con quasi 200 tra uomini e donne delle forze dell'ordine che dalle prime ore del mattino hanno cinto da sedio il centro storico di Sassari, in particolare il quartiere di San Donato, protagonista di diversi fatti criminali, tra cui una sparatoria, ma anche risse e prostituzione e con bande di spaccio che operano in diverse strade. La popolazione da tempo chiede maggiore sicurezza e lo Stato sta provando a dare una risposta. Nel mese di novembre le forze dell'ordine hanno identificato 1500 persone e nella maxi operazione disposta dal tavolo interforze coordinato dalla prefettura di oggi, 30 novembre, carabinieri, polizia e guardia di finanza di diversi reparti specializzati hanno arrestato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed eroina. Quattro soggetti sono stati invece segnalati per possesso di marijuana ed eroina e poi ci sono state le perquisizioni in diverse abitazioni e otto posti di blocco. 42 le auto controllate e 124 le persone identificate, tra cui numerosi stranieri. Dalla prefettura fanno sapere che l'operazione straordinaria di controllo è stata gradita dalla popolazione.